Il Ferragosto in Sardegna è stato funestato da una serie di tragici incidenti stradali e emergenze che hanno provocato un morto e numerosi feriti. Il caso più grave ha riguardato Giuseppe Cozzolino, 65 anni di Olbi, ha deceduto in uno scontro frontale sulla strada provinciale 24 Olbi-Aloiri. Cozzolino, che guidava un Opel Corsa blu elettrico, è stato coinvolto in un incidente con una Range Rover guidata da un 75enne che è stato estratto dalle lamiere e ricoverato in ospedale, fortunatamente in condizioni non gravi. Gli altri incidenti sono avvenuti a Sorso, dove una Chevrolet Matiz è andata a sbattere contro un muro e vicino ad Alghero, dove un'auto si è ribaltata e incendiata. I vigili del fuoco della sede centrale di Sassari sono intervenuti in entrambi gli episodi, mettendo in sicurezza le aree e assistendo i feriti. Un altro incidente si è verificato nella Galleria Sud di Siniscola, sulla statale 131 di Cien, dove un frontale tra una Fiat Panda e una Toyota Ego ha lasciato tre persone gravemente ferite, tra cui un giovane di Orune e una turista tedesca, trasportati in ospedale con l'elissoccorso. La stadale è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi. Alle 4.45 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti nella spiaggia di Liscia Ruia, in Cosa Smeralda, per l'incendio di un chiosco. Nonostante la difficoltà di accesso dovuta alla strada impervia, la squadra ha operato con motopompe portatili, utilizzando acqua di mare per facilitare l'estensione delle fiamme, che hanno completamente distrutto la struttura. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta e l'intervento ha impedito che l'incendio si propagasse alla macchia mediterranea circostante.